11 anni e 8 mesi di carcere, questa è la pena inflitta dal GUP del Tribunale d'Egrigento Ottavio Mosti al 22enne Leonardo Iatì. Quest'ultimo in carcere, dallo scorso mese di marzo, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio della pensionata Giovanna De Rossi di 68 anni. Delitto commesso nella casa di villeggiatura della donna a Montallegro nel dicembre del 2009. Ad incastrare il giovane erano state le tracce del suo DNA su un tovagliolo di carta trovato sul luogo del delitto. Il PM aveva chiesto la condanna a 16 anni di reclusione.